Amici, ben trovati, benvenuti. Vorrei intanto manifestare la mia vicinanza a ciascuno di voi, anche perché il nostro primo anno è un gruppo enorme, siamo quasi 600 praticanti, 600 persone che nonostante, ripeto, il lockdown dell'anno scorso e quello di quest'anno hanno deciso di iniziare un cammino di ricerca interiore come il nostro. Forse lo abbiamo fatto e lo facciamo anche perché questo tempo è duro, non possiamo nascondercelo e non vogliamo mai nasconderci la realtà delle cose. È un tempo per molti motivi, a mio parere, estremo, un tempo che sta quasi direi convalidando, confermando alcune linee interpretative che appartengono al nostro movimento e che direi quest'ultimo anno purtroppo ha appunto confermato drammaticamente, cioè di vivere un tempo estremo, di vivere un tempo di decisioni anche estreme. E questo non solo, a mio parere, per l'epidemia che ovviamente sta portando con sé tanta sofferenza, tanti lutti e tanti disagi ad ogni livello, ma quello che, ma qui naturalmente non sarà stamattina il tema della nostra riflessione, ma voglio comunque farvene parte, come facciamo comunque in tantissimi video che pubblichiamo regolarmente sulle nostre pagine Facebook e sul nostro canale YouTube. Cioè quello che a me colpisce e mi spinge a riflessione e anche a preoccupazione è proprio la modalità, la modalità in cui la nostra umanità sta vivendo questa prova. Cioè il modo, a mio parere, eccessivamente angosciante e direi sostanzialmente paranoico in cui stiamo vivendo, certamente una prova, nessuno lo può negare, ma voglio dire, sapete, la paranoia vuol dire fissazione, la mente che si fissa, si fissa su qualche cosa e si incaglia, direi anche, su qualche problema, finché questo problema diventa paranoico, diventa totalizzante, diventa l'unica cosa di cui dobbiamo parlare, di cui dobbiamo occuparci. Cioè la comunicazione di massa è totalitariamente assorbita dal problema Covid che, ripeto, nessuno nega esista, ma la modalità totalitaria, ossessiva e paranoica in cui lo viviamo mi preoccupa, mi preoccupa molto. Amo ricordare, ma così solo per una curiosità, che naturalmente andrebbe accompagnata da riflessioni che non faremo oggi, che nel XIX secolo, cioè nel 1800, l'Italia è stata attraversata da sei pandemie di colera e il mondo intero da sette, una ce la siamo risparmiata. Cioè per tutto il 1800, ciclicamente, diremmo noi oggi a ondate, a ondate che duravano due, tre anni ognuna, dalla prima ondata del 1835-37, nella quale, come forse ricordate, morì anche Leopardi, Leopardi morì di colera a Napoli nella prima ondata di colera, ma fino alla fine dell'Ottocento l'Italia è stata purtroppo devastata da sei ondate di colera che hanno prodotto 600.000 morti, ok? Che naturalmente andrebbero comparati alla popolazione molto minore che abitava in Italia in quel tempo. Ora, durante questo secolo devastato dal colera, ok? Se voi prendete un libro di storia, che cosa trovate? Beh, non troverete quasi una riga sul colera. Non è che non ci fosse, non è che non si morisse, non è che non fosse comunque qualcosa di tragico che, diciamo, attraversava la storia di quelle persone che poi erano i nostri bisnonni e i nostri trisnonni, non è che fossero altri. Però, se voi prendete un libro di storia o prendete, che ne so, il racconto che Gramsci fa della storia del XIX secolo, beh, trovate la prima guerra di indipendenza, l'inizio dei moti risorgimentali, la seconda guerra di indipendenza, il 1848, i sommovimenti in tutta Europa, la terza guerra di indipendenza del 66, l'unità d'Italia, la nascita del movimento operaio, e via e via. Questo trovate, cioè, che voglio dire? Voglio dire che, purtroppo, gli umani, da quando ne abbiamo memoria, sopportano pestilenze cicliche. Questa non è né la prima, né l'ultima e nemmeno la più grave. Ne abbiamo vissute di spaventosamente più gravi. Quella di Colera era, certamente, portatrice di una mortalità incomparabile. Per non parlare della peste che ha devastato l'Europa per 300 anni di seguito, dal 1300, ricordate la peste di Boccaccio, fino al 600, la peste di Manzoni. Ecco, allora, che l'intero mondo, bene o male, si paralizzi. Noi abbiamo, io controllo, ormai mediamente, un telegiornale di 30 minuti dedica almeno i primi 20 minuti a Covid. Covid, vaccini, quanti morti, quanti contagiati, eccetera, eccetera. Ecco, a me questo preoccupa, senza nessun complottismo, cioè semplicemente per quello che è. Mi preoccupo, mi preoccupo e mi chiedo se è proprio di questo che ci dovremmo occupare o solo di questo in una fase della storia che già prima del Covid aveva problematiche estreme. Non ce questo sistema informativo vuole distoglierci dalle domande e dalle problematiche che c'erano appunto pure prima e di cui forse ci dovremmo occupare più seriamente, della sostenibilità di un intero sistema di sviluppo, della compatibilità di un'intera visione del mondo che c'è dietro il sistema di sviluppo di un'intera cultura, di un'intera civiltà radicalmente riduzionistica che vuole ridurre l'uomo a cosa? A dati? A big data? Manipolabili? Ecco, è di questo che non si vuole che ci interroghiamo? Cioè, come dire, stiamo utilizzando il problema Covid più o meno consapevolmente? Io non è che ci sia come dire la cupola cattivi, no, è un automatismo del sistema. Ecco, stiamo utilizzando il problema Covid come una cortina fumogena per addomesticare gli umani, per distrarre gli umani, per non farci vedere ancora una volta le disuguaglianze spaventose che anche il Covid sta aumentando, sta crescendo, per renderci mansueti, terrorizzati, impauriti, preoccupati con numeri, dati, dati spesso in maniera, diciamo, sospetta. Questi dati vengono anche dati in maniera sospetta, sembra che vengano proprio dati per allarmarci. Ok, cari ragazzi, però sapete, noi abbiamo una prospettiva apocalittica nel senso positivo, cioè nel senso che le cose vengono in luce, si rivelano anche quelle negative e io vedo comunque che nonostante questa cortina fumogena la consapevolezza di alcune delle cose che anche stamattina ho buttato lì stanno emergendo. Io vedo anche persone non sospette che piano piano qualche domanda se la fanno, qualche, diciamo, preoccupazione la manifestano e quindi, cari ragazzi, non demordiamo affatto. Anzi, più il tempo si fa difficile, più per certi aspetti può essere propizio. Questa è un'altra delle chiavi fondamentali del nostro cammino. Il tempo estremo può essere il tempo più propizio. Propizio per svegliarci, però, non propizio in sé. Può essere propizio se utilizziamo questa sfida come una sollecitazione ulteriore a un cambio di rotta radicale, interiore, personale, che si faccia culturale, che si faccia critica culturale che manca del tutto, o quasi, e anche poi progettazione a medio-lungo termine di una politica nazionale innanzitutto e poi anche internazionale che cambi rotta, che cambi mente, perché la mente che ci ha guidato fino a qui ci ha portato fino a qui, cioè alla catastrofe. E quindi mi pare un po' strano e anche qui sospetto che si voglia celebrare come novità la venuta di soggetti politici che sono stati i responsabili o almeno i corresponsabili della storia che ci ha portato fino a questo punto di rottura, ok?